Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'emergenza sanitaria, la paura per il vaccino AstraZeneca rallenta l'intero piano vaccini, tanti convocati a Napoli che hanno rifiutato la loro dose. Intanto la Campania continua a essere zona rossa, questa mattina per la prima volta le strade di Torre del Greco risultavano deserte. Passiamo ora alla cronaca con i controlli della Guardia di Finanza per il rispetto delle misure anticontaggio, oltre 100 le sanzioni solo nel weekend. Abbiamo parlato invece con gli operatori della cooperativa Alice che gestiscono uno sportello che offre assistenza alle famiglie che soffrono a causa del Covid, i loro racconti. In conclusione abbiamo accolto l'appello dei marittimi di Torre del Greco che chiedono alle istituzioni maggiori interventi per la formazione e per il ritorno presto al lavoro. Questo ed altro nei nostri servizi. La paura rallenta la Campania Vaccini. Netto calo dell'affluenza alle vaccinazioni AstraZeneca a Napoli al secondo giorno in ripresa delle dosi. Dai dati dell'Asla Napoli 1 emerge che alla stazione marittima in mattinata erano stati convocati 840 cittadini del personale scolastico e universitario, ma di questi si sono presentati solo 339, il 40,36%, mentre gli assenti sono stati 501. Ieri, nella prima giornata, si era presentato il 64,61% dei convocati. Ai presenti sono state somministrate 312 dosi di AstraZeneca e 27 di Pfizer per coloro che avevano patologie incompatibili con AstraZeneca. Nel pomeriggio, sempre in lab vaccinale della stazione marittima, toccava alle forze dell'ordine e a vigili del fuoco. Erano stati convocati in 264, si sono presentati 138, il 52,27%, che hanno avuto 115 dosi di AstraZeneca e 23 di Pfizer per le patologie incompatibili con l'altro vaccino. Gli assenti in questa categoria sono stati dunque 126, con un forte calo rispetto a ieri quando tra le forze dell'ordine si era presentato il 76,52% dei convocati. Prosegue intanto la vaccinazione degli anziani e dei fragili alla mostra oltremale con Pfizer. Dei 135 over 80 chiamati per le seconde dosi si sono presentati in 131, il 97,04%, mentre degli 823 fragili per la prima dose si sono presentati in 743, il 90,28%. A preoccupare non è solo la sfiducia, ma anche l'assenza di dosi. È di poco superiore ai 200.000 al giorno la media massima delle somministrazioni del vaccino in Italia la prossima settimana. Il calcolo, che emerge anche da una verifica fatta con il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, è stato eseguito in base alla disponibilità di dosi attuali e quelle previste in arrivo nei prossimi sette giorni. A quanto si apprende, già attualmente la capacità di inoculazione nelle varie strutture del paese sarebbe invece già di circa il doppio rispetto alle quantità di fiale a disposizione. Intanto, per il vaccino Sputnik, EMA ha iniziato la revisione a cicli che avviene solo per i vaccini promettenti. I dati vengono visti in corso per procedere, quando il dossier è completato, con un'approvazione veloce. Ad aprile faremo le ispezioni in Russia, sia per le produzioni che per lo studio clinico. Lo ha detto Marco Cavalieri, responsabile della strategia vaccini dell'EMA, durante la trasmissione che è tempo che fa. Cavalieri ha poi spiegato che l'EMA non era a favore di una sospensione di AstraZeneca. Sono scelte anche motive dettate per paura che la popolazione non capisca. L'EMA chiedeva di verificare, prima di sospendere. Il gran lavoro di questi giorni ora ci permette di ricominciare a correre per le vaccinazioni, spiega il ministro della salute Roberto Speranza, intervistato alla stampa. Con il decreto sostegno mettiamo in campo oltre 150.000 tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzanti e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19.000 farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270.000 infermieri da coinvolgere nella Campania che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l'uscita dell'emergenza. Prorogata la zona russa per la regione Campania. Le restrizioni più dure dovevano durare fino al 21 marzo, ma nell'ultimo fine settimana la cabina di regia ha deciso di continuare con la linea dura almeno per un'altra settimana. Alla vigilia della terza settimana in zona rossa le strade Eitor e il Greco risultano, per la prima volta, deserte. Se nei giorni scorsi in tanti denunciavano la presenza di troppe persone in strada e la totale assenza di controlli, oggi la situazione è del tutto cambiata. Nelle principali strade del centro le persone in giro sono poche e prevalentemente impegnate in spese e commissioni. Ridotto al minimo anche il traffico dei veicoli, anche nelle vie che più spesso, in genere, vengono congestionate dalle auto. Forse l'incremento di contagio del numero delle vittime ha sensibilizzato, finalmente, la cittadinanza torrese. Oppure la prolungata chiusura delle attività commerciali ha definitivamente tolto la voglia di percorrere le vie del centro, se non per necessità. In ogni caso, questa mattina, Torre del Greco si è svegliata, rassegnata e deserta. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, tra venerdì e domenica, ha controllato tra il capoluogo e la provincia 1.500 persone e attività commerciali. 101 le sanzioni complessive, non solo anti-covid, ma anche, in particolare, per contrabbando di sigarette e gioco d'azzardo. I controlli hanno riguardato soprattutto Napoli-Città, a seguito delle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Più in dettaglio il dispositivo composto dal gruppo pronto impiego e dal primo gruppo, integrato dai rinforzi delle compagnie di Torre Annunziata e Giuliano, ha portato alla contestazione di sanzioni in città tra i quartieri Barra, Ponticelli, San Ferdinando e Vomero, a carico di 55 tra persone senza mascherina, in strada senza validi motivi oppure che consumavano all'interno di Barra. Il primo gruppo ha scoperto nel quartiere Miano, presso un circolo privato, una bisca clandestina e sottoposto a sequestro sei videopoker, denunciati e sanzionati per violazione della normativa anti-covid, il gestore e i giocatori. Nelle immediate adiacenze dell'area portuale, il secondo gruppo ha sanzionato 20 persone sorprese in strada senza comprovati motivi, fuori dal proprio comune di residenza o durante il coprifuoco. Altre sanzioni anti-covid sia a persone che ad esercizi commerciali tra Portici, San Giorgio a Cremano, Quarto, Bosco Reale, Melito, Qualiano, Marano, Torre del Greco, Grumo Nevano, Crispano, Castellamare di Stabbia e presso il molo commerciale di Capri, anche grazie a segnalazioni di cittadini pervenuti alla sala operativa del Comando Provinciale tramite il numero di pubblica utilità 117. Nuovo approfondimento dei tv siti sull'emergenza covid. In collegamento gli operatori della cooperativa Alice Ollus che gestiscono uno sportello che offre assistenza di prossimità alle famiglie in difficoltà. Abbiamo un numero verde e cerchiamo di dare supporto alle famiglie che sono in isolamento e arrivano richieste nello specifico sia di kit alimentari, di kit igiene, di assistenza psicologica, ma soprattutto il numero verde funziona anche da informazione, cerca di dare il primo supporto e quello dell'accoglienza, diciamo, di mettere a proprio agio le persone che vivono questo momento terribile. Insomma, è capitato che un nucleo familiare di 4-5 persone, tutte positive, quindi non solo in isolamento senza bene di prima necessità, ma anche lasciati un po' da soli verso... abbiamo fatto anche informazione per i medici di base per quanto riguarda la risposta dei tamponi. Insomma, nello specifico abbiamo cercato di dare non solo un supporto materiale con la distribuzione di kit, ma anche di sostegno morale e psicologico. Cosa comprende il kit? Bene di prima necessità, latte, pasta, pomodori, zucchero, olio, abbiamo comunque... ci siamo attivati anche per la consiglia di medicinale, appunto per le persone che erano impossibilitate nel scendere perché erano in quarantena e quindi ci siamo attivati appunto con lo sportello prossimità anche alla consiglia di farmaci e non solo, anche di bombole di ossigeno. Abbiamo ascoltato anche gli operatori che ogni giorno si confrontano con i disagi delle famiglie. Abbiamo avuto alcune situazioni abbastanza critiche. La nostra collega ha avuto la chiamata da una signora e questa è la, diciamo, più critica che abbiamo avuto, la quale non riusciva a respirare molto bene e a causa ovviamente del covid e hanno subito provveduto, la mia collega ha provveduto a chiamare un'ambulanza la quale si è recata a casa della signora per accertarne lo stato di salute e ambulanze che fondamentalmente in questo periodo, diciamo, non scarseggiano, però comunque sono molto impegnate. Quindi grazie al nostro intervento siamo riusciti, diciamo, ad aiutare questa signora. Poi abbiamo ricevuto molte segnalazioni per quanto riguarda i bisogni degli animali domestici. Spesso chiamano persone che hanno anche porto di handicap nel loro nucleo familiare e non possono dare assistenza in prima persona perché presentando i sintomi del covid hanno anche poca, diciamo, sia lucidità che forza fisica per accompagnarli. In questo caso noi ci stiamo attivando anche per offrire un supporto materiale oppure attivare tramite dei diversi canali dei servizi di assistenza. Queste, diciamo, sono le chiamate più emergenziali, derivano proprio da questo, da un senso proprio di impotenza nell'accudimento dei familiari, diciamo. Noi accogliamo tutte le richieste di qualsiasi tipo, noi facciamo il possibile per cercare di aiutare sia moralmente che appunto materialmente tutti i cittadini che purtroppo vivono in questa condizione di isolamento. Quindi per qualsiasi esigenza, noi lo ripetiamo sempre, anche a tutte le persone che ci chiamano, anche per una semplice informazione sui tamponi, noi diciamo che per qualsiasi esigenza non necessitate a contattarci perché sappiamo che appunto è una situazione di forte disagio, quindi noi siamo a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta. Ricordiamo che per ricevere il supporto agli operatori è possibile chiamare il numero verde 800 171 636 dalle 9 alle 18. Negli studi di TV City, Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco, oggi qui per fare una denuncia attraverso i nostri microfoni. C'è un problema serio per le nuove matricole per quanto riguarda i corsi di nuoto e voga. Che cosa sta succedendo? Succede che gli ultimi corsi che hanno fatti i lavoratori le nuove matricole è stato, se non sbaglio, ottobre. All'inizio di ottobre è stato fatto il tuo corso e poi tutto bloccato. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Marzo arriverà anche aprile per il caso Covid. Ma non riusciamo a capire cosa vuol dire caso Covid. Se ci sono delle piscine, delle strutture, dei centri di formazione che stanno facendo testa e sopravvivenza e sabbataggio nelle piscine che devono girare le zattele, scusate, quello è perché hanno la via libera per fare i corsi, perché è stato fatto un decreto che devono fare, i corsi di formazione li possono fare. Vogliamo abilitare questi giovani nuovi che si stanno facendo al mare? Cosa succederà? Si troveranno anche lavori? Ma cominciamoci a fare i corsi. Perché dico questo? Voi dovete capire che il marito deve fare tutta una documentazione. Questa documentazione scaderà adesso? E cosa succederà? Questi che già hanno speso 200 euro di sangue, patologia, visite che scadono. Cosa succederà? Vuol dire che devono fare di nuovo tutta la documentazione da capo? Questa è la cosa più vergognosa, perché loro dicono che non ci sono le piscine. Io dico che le piscine ci sono. Qual è il problema della Capitina di Porta? Allora che la Capitina di Porta si fa carico di questa cosa urgentemente, di sbloccare questi... Noi abbiamo più di... Ci sono più di 150 ragazze che devono fare il nodo e voca. Ma scusate, io faccio una domanda alla Capitina di Porta. Ci si assume questa responsabilità di far scadere tutta questa documentazione e cacciare tutto questo 200 euro che lì già non si lavora? Cassa integrazione, non si lavora, non si imbarca, non si fa niente. Gli dà la beffa di andare a fare di nuovo tutta la documentazione. Pagherete voi la Capitina di Porta? Vogliamo capire chi pagherà? Dunque il danno e la beffa per questi marittimi che vedranno a breve scadere tutti i documenti che hanno preparato e in mancanza di questi corsi non possono imbarcare? Non possono imbarcare perché l'ultimo corso che è per imbarcare è il nodo e voca. Se non fanno questo nodo e voca, questi lavoratori non possono imbarcare, non possono avere l'accesso alla prima immatricolazione che dopo hanno l'accesso alla prima immatricolazione devono cominciare a fare tutti i corsi, tutti i corsi in base per cominciare a vedere poi dove devono fare la via e i cruci per imbarcare perché poi ci vuole un miracolo su questo. Vogliamo rivolgere attraverso le nostre telecamere un appello alle istituzioni. Chi si sta interessando di questa faccenda? Lo sa che in Genova devono fare il nodo e voca. scusate Genova, io ho tutto iscritto e dice che devono fare il nodo e voca e noi che siamo attori del greco, possiamo andare a tutte le facce sai chi che mette le piscine a disposizione, non possono fare il nodo e voca. L'istituzione? Dove stanno? Comune e regione, qual è il suo appello? Comune e regione, caro sindaco Giovanni Paloma cari assessori regionali mi siete pagati 24.000 voti, 40.000 voti avete fatto le vie crucis per andare a casa per casa per andare a prendere questi voti che non esisteva nemmeno il covid da settembre, è su da ottobre, il covid a settembre quando abbiamo fatto la campagna, non c'era si siamo mischiati tutti qua ma ora che dite? La spendete mezza per ora per fare questi corsi in nodo e voca per questo ritorno marito caro regione, caro Deleuco io ho capito che dobbiamo lasciare lanciare a fiamma ma volete scrivere a Deleuco per fare questi corsi per vedere un po' qual è la situazione caro Giovanni Paloma, mi ti ringrazio che una volta hai speso tantissimo e no, devi fare ancora un altro sforzo perché qua se noi non bartelliamo e parliamo è sempre tutto fermo, è sempre tutto in silenzio nessuno sa niente io faccio l'appello anche a Luigi Gallo la grande dottoressa Loretana Rai dove sei? Luigi Gallo o tutte queste persone mi chiedo scusi se non ho messo qualcuno come vale tutti questi quale giorni che si hanno preso una marea di voi qua vale di 40.000, 24.000 ma avete speso un'emozione per i maretti grazie per la cortesa attenzione per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484 e con questo è veramente tutto io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi grazie a tutti